A cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara, Penne. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha preso parte alla cabina di coordinamento presieduta dal commissario alla ricostruzione Giovanni Negnini che si è svolta in videoconferenza durante la quale sono state approvate quattro nuove ordinanze di forte impatto sulla ricostruzione. La più importante riguarda la semplificazione e l'accelerazione della stessa ricostruzione, per quanto riguarda quella privata, attraverso il maggior coinvolgimento dei professionisti incaricati della redazione dei progetti. Attraverso una serie di autocertificazioni prodotte dai tecnici si potranno ridurre notevolmente i tempi del procedimento istruttorio che non potranno superare i 100 giorni. I professionisti assumeranno poi la qualità di persone esercenti un servizio di pubblica utilità e potranno quindi sostituirsi agli uffici pubblici in una serie di verifiche preliminari come ad esempio la conformità urbanistica e l'edilizia dell'intervento proposto. L'ufficio speciale sarà invece più coinvolto nei controlli preventivi e successivi sulle dichiarazioni rese. Una seconda ordinanza riguarda l'individuazione dei comuni più danneggiati dagli eventi sismici. Per l'Abruzzo sono stati individuati i comuni di Campotosto, Capitignano, Valle Castellana, Cortino, Montereale e Torricella Sicura. L'individuazione è stata preliminarmente approvata anche in sede di comitato istituzionale al quale hanno preso parte tutti e 23 i comuni facenti parte del cratere sismico bruzzese. La regione è stata autorizzata alla predisposizione di programmi di ricostruzione che potranno, ove necessario, derogare rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica per l'adeguamento igienico-sanitario e sismico degli edifici perimetrati. Una terza ordinanza ha reso esecutiva la delega di funzioni in favore dei comuni per l'istruttoria delle pratiche di rilascio del contributo per la riparazione dei danni. Questa prerogativa è stata richiesta e ottenuta solo dalle regioni Abruzzo ed Umbria e prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli di intesa tra gli uffici speciali e i comuni che lo richiedono, nei quali verranno regolati i reciproci rapporti, l'attività di formazione e il conseguente trasferimento di conoscenze e competenze. L'ultima ordinanza riguarda la suddivisione tra i vari comuni di un fondo da 30 milioni di euro, di cui tre a favore appunto della regione Abruzzo, per la realizzazione di interventi che hanno l'obiettivo di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle aziende che operano nei territori danneggiati dal terremoto, nonché l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il contenimento del contagio da Covid-19 da parte delle imprese che operano nei cantieri della ricostruzione. Ogni famiglia abruzzese riceverà una busta che conterrà due mascherine direttamente a casa nella cassetta postale e un ulteriore importante passo, così lo ha definito la regione Abruzzo, per la protezione della cittadinanza abruzzese in vista della graduale ripresa delle attività ordinarie. Lo ha annunciato lo stesso presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo all'Aquila in un punto incontro con la stampa. Saranno raggiunte circa 650 mila famiglie per un totale di un milione e mezzo di mascherine. La regione infatti ha raggiunto un accordo con poste italiane che a titolo gratuito consegnerà a domicilio le mascherine. Gli abruzzesi si vedranno consegnare a casa il loro dispositivo di protezione individuale in assoluta sicurezza, perché appunto lo troveranno nei cassetti della posta. Giovedì la regione ha emanato ben tre ordinanze senza averle concertate con nessuna rappresentanza dei sindaci, anticipando le disposizioni dell'ultimo provvedimento del governo che entrerà in vigore lunedì. E' l'accusa lanciata da alcuni sindaci aderenti al Partito Democratico, secondo cui si tratta di una condotta pericolosa che genera confusione nei cittadini e costringe le amministrazioni locali a dare chiarimenti e risposte su qualcosa che si sono visti calare dall'alto senza nessuna condivisione preliminare. I sindaci del PD lo definiscono un fatto molto grave, che in una fase, riferendosi appunto alla circostanza, che in una fase nella quale è necessario mantenere una linea comune, dare segnali univoci alla popolazione, si voglia, dicono, mettere in piazza e sulla pelle dei cittadini uno scontro che tutto è solo politico, nel quale la regione, targata Meloni-Marsilia, accusa nel sindaci del PD, tenta una fuga in avanti su temi così delicati. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2.948 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Rispetto a due giorni fa si registra un aumento di 18 casi, su un totale di 1.229 tamponi analizzati, cioè l'1,4% dei tamponi positivi sul totale, risultato appunto positivo nella giornata di ieri. Nella giornata invece dell'altro ieri, il 30 aprile, i positivi erano stati 7, su un totale di 1.035 tamponi analizzati, con una percentuale dello 0,67%. Dunque possiamo dire che sia i numeri in assoluto che le percentuali si mantengono bassi. 297 pazienti, 9 in meno rispetto a due giorni fa, ieri erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Di questi 40 in provincia di L'Aquila, 98 in provincia di Chieti, 119 in provincia di Pescara e 40 nel Teramano. 16, numero invariato rispetto a due giorni fa, erano invece ieri in terapia intensiva, 3 in provincia di L'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 4 in quella di Pescara e 7 nel Teramano. Gli altri 1.598, 5 in più rispetto a due giorni fa, risultavano invece ieri in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Di questi 82 in provincia di L'Aquila, 493 in quella di Chieti, 779 in provincia di Pescara e 244 nel Teramano. Nel numero dei casi positivi sono compresi purtroppo anche 324 pazienti deceduti, 4 dei quali registrati ieri. I nuovi decessi, alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle 24 ore tra ieri e l'altro ieri, riguardano una 83enne di Pescara, una 76enne di Cepagatti, un 89enne di Casali Incontrada e un 91enne di Chieti. In ogni caso sarà l'Istituto Superiore di Sanità a dover attribuire le morti al coronavirus, perché si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse. Sono invece 713 i pazienti guariti, 18 in più rispetto a due giorni fa, di cui 218 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 495 che hanno invece risolto i sintomi dell'infezione, risultando negativi in due test di seguito. Dalla prossima settimana a Montesilvano ripartono alcuni servizi principali come i mercati per il settore dell'agroalimentare, nel piazzare del Paladin Martin, l'apertura del cimitero del secondo weekend di maggio dopo le richieste di numerosi cittadini e l'importante piano di disinfestazione per una città in salute. Nel biegno 2020-2021 la ditta incaricata effettuerà interventi nell'intero territorio comunale senza trascurare contrade e zone periferiche per un totale di 160.000 euro circa. Lunedì partirà l'intervento Larvicida per limitare l'infestazione da zanzare in diverse zone che si protrarrà anche nei mesi di giugno e luglio e invece alla firma l'ordinanza sui comportamenti da tenere dai singoli cittadini, aziende, amministratori condominali e altri soggetti. Le aree private costituiscono inoltre la maggior parte dei siti a rischio, quindi è fondamentale che ogni cittadino provveda la rimozione di tutti i potenziali focolai larvali, tutti i possibili ristagni d'acqua e al trattamento con larvicidi di quelli che non possono essere eliminati come tombini, calitoie, pluviali delle grondaie, mettendo in pratica alcune semplici norme di comportamento previsti a interventi adulticidi che partiranno a breve e per tutta l'estate con percorrenze stabilite e individuazione di macro aree di intervento. Particolare attenzione anche agli interventi di derattizzazione con l'ausilio di erogatori con esche. Ricordiamo gli appuntamenti in programma sulle nostre frequenze, quelle religiose, alle 7 la Santa Messa con Papa Francesco, alle 12.03 quella con il nostro direttore Don Remo Chioditti, alle 19 la Santa Messa dal Santuario della Madonna Divino Amore in Roma, Recita del Santo Rosario alle 11.30, 17.03 e 22.30. Ricordiamo i numeri dei COC, Centri Operativi Comunali di Pescara, 085-4283-400 e Monte Silvano 800-942222. Siamo al meteo, oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino a metà mattino, nuvoloso in tarda mattinate nelle ore centrali, coperto nel pomeriggio e poco nuvoloso in serata con temperature da 16 a 20 gradi e 20 da deboli a moderati e nelle zone interne cielo coperto fino a metà mattino, molto nuvoloso in tarda mattinate nelle ore centrali, pioggia nel pomeriggio, cielo poco nuvoloso nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 15 a 20 gradi e 20 da deboli a moderati. Domani si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino a metà mattino, molto nuvoloso in tarda mattinate nelle ore centrali e sereno nel resto della giornata con temperature da 11 a 15 gradi e 20 da deboli a moderati. E nelle zone interne cielo nuvoloso fino a metà mattino, coperto dalla tarda mattinata a metà pomeriggio, sereno nel resto del pomeriggio, poco nuvoloso nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 12 a 16 gradi e 20 da deboli a moderati. Il mare è previsto da poco mosso a mosso sia oggi che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa di Cesana di Pescara Penne. Grazie a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.